Blogosphere Design & Style è al Salone del Mobile, anzi in zona Tortone, siamo con Bazzi Space. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.